Serie B, il campionato inizia senza il lecco. Non sono bastate le solide motivazioni del Tar a convincere la Lega B a far scendere in campo i Blu Celesti, come previsto dal calendario, il 19 agosto contro il Pisa. Il lecco resterà fermo ai box fino almeno al pronunciamento del Consiglio di Stato, previsto il 29 agosto, sospese ovviamente anche le partite della squadra che in calendario risulta ancora con la X, ovvero una tra la regina, bocciata dal Tar, e il Brescia, candidato a sostituirla. I Blu Celesti dunque salteranno certamente le prime tre partite contro Pisa, Spezia e il derby contro il Como. Saranno recuperate in seguito. Se non arriveranno nuove sorprese dalle aule di Tribunale, potrebbero iniziare il loro cammino in Serie B il 2 settembre contro il Catanzaro. Ma non è escluso che, considerata la vicinanza con la sentenza che metterà la parola fine a tutti i ricorsi, il lecco possa esordire in caratteria direttamente dopo la pausa delle nazionali, ovvero il 16 settembre, proprio contro una tra regina e Brescia. Il rinvio dell'inizio del campionato non ha turbato la società Blu Celeste, tutt'altro, e lecco contava in un inizio posticipato delle sue partite per poter recuperare il tempo perso per allestire la squadra a causa dello stop all'iscrizione deciso dal Collegio di Gananzia dello Sport e poi annullato più di due settimane più tardi dal Tar. Proprio per imprimere una decisa accelerata sul fronte mercato, la società di Via Don Pozzi ha ufficializzato il ritorno del direttore sportivo Domenico Fracchiolla, già all'ecco dal 2020 al 2022. Grazie anche al suo lavoro sono state poste le basi della squadra che ha poi vinto i play-off. Stimato dalla società e dai tifosi, non avrà bisogno di tempo per ambientarsi. Ma il rinvio dell'inizio del campionato fa gioco all'ecco anche per un altro motivo, lo stadio. I lavori procedono con celerità. Entro il 16 settembre il rigamonticeppi potrebbe essere già a norma per la Serie B e dunque i blu celesti non giocare nemmeno una partita a Padova. Certo, scendere in campo già dalla prima giornata avrebbe in qualche modo blindato la partecipazione dell'ecco alla Serie B, mettendola al riparo da colpi di scena al Consiglio di Stato. Ma le motivazioni della sentenza del Tar fanno stare la società relativamente serena. Tragedia nel tardo pomeriggio di lunedì a Premana. Luigi Caspani, un uomo di 79 anni, originario del milanese ma residente a Costa Masnaga, proprietario di una baita a Gebbio, nel comune dell'Alta Val Varrone, è finito in una scarpata a bordo della sua Jeep. L'incidente è avvenuto lungo la strada carrozzabile che porta ai forni nel tratto che da Giabbio va verso Varrone. Fa tale una manovra errata che ha fatto precipitare il mezzo per una sessantina di metri. L'uomo è stato estratto dai rottami della Jeep in arresto cardiaco. Vani purtroppo i soccorsi. L'incidente mortale di Premana è stato uno dei tre interventi che hanno visto impegnati nella giornata i volontari del soccorso alpino assassinesi insieme alle forze dell'ordine. Il primo è scattato in mattinata alle 11 nella zona di Marnio. Un escursionista a settantenne in cerca di funghi ha perso il sentiero, si è ritrovato in un pulto molto ripido e ha chiesto aiuto. Impegnate le squadre territoriali del soccorso di Sondrio, l'uomo raggiunto in zona Piandere-Bettule è stato portato in salvo. Nel pomeriggio, invece, intorno alle 16 nel comune di Crandola, sopra l'arpeggio di Ortighiera, un uomo è scivolato ed è caduto sul posto. Le squadre territoriali del soccorso alpino che hanno prestato aiuto in autonomia a causa del vento forte non era infatti possibile in quel frangente l'impiego dell'elicottero. Infine, l'intervento di Premana, che ha visto impegnati volontari insieme ai vigili del fuoco per cercare di recuperare l'anziano caduto in una scarpata con la sua jeep. Un tragico volo di 60 metri che non ha purtroppo lasciato scampo al conducente. Permanenti cicatrici nei familiari paesaggi montani. Il CAI Lecco entra a gamba tesa nella polemica sollevata nelle scorse settimane sulla strada di Morterone. Quei lavori, secondo la nota dell'associazione, sono solo un piccolo assaggio. Lo scorso settembre 2022 la comunità montana ha approvato il piano di indirizzo forestale. Il documento contiene la definizione delle politiche di sviluppo per riattivare il sistema agrosilvopastorale e gestire le risorse forestali, mantenendo elevati livelli di qualità paesaggistica, ambientale e di efficienza ecologica. Ora, lavori iniziati, la polemica riprende, oggetto della discordia alle strade previste dal piano, volte alla tutela e al mantenimento del paesaggio per quelle aree altrimenti irraggiungibili. Siamo consapevoli che in alcuni casi interventi preventivi mirati possono avere un'evidente utilità nella stabilizzazione dei versanti e nella prevenzione degli incendi, scrive il CAI nella nota. Tuttavia il carattere estensivo, trasversale e permanente di questo piano diretto a boschi, pensati solo come colture di legna, e a montagne, pensate unicamente come ludici giardinetti cittadini da travolgere con asfissiante turismo di massa, non poteva incontrare il nostro silenzio assenso. Il nostro appello prosegue il CAI, lungi dall'essere un no categorico e preconcetto. Vuole essere un invito a riprendere le redini della maldestra e offensiva mano che si vorrebbe alzare contro il fragile incanto e la delicata bellezza di una terra che ancora, nonostante tutto, siamo orgogliosi di chiamare casa. Un luogo che, conclude il CAI, se veramente tale, ha bisogno di tutto l'interessamento, la sorveglianza e l'affetto di chi lo abita e lo frequenta. Investire per tutelare grazie alle nuove tecnologie è il bene più prezioso del futuro, l'acqua. Un pool di banche insieme a Finlombarda, società finanziaria di regione Lombardia, ha sottoscritto un accordo con l'Arioreti Holding, società che si occupa della gestione del ciclo idrico in provincia di Lecco per sostenere, con un finanziamento di 62 milioni di euro, il piano industriale della società da qui al 2045. Gli istituti che hanno sottoscritto l'accordo sono Banco BPM, Biperbanca e Banca Popolare di Sondio. Grazie al sostegno ottenuto da intermediari finanziari di primo livello, potremo implementare il piano industriale 2022-2045 e realizzare gli interventi previsti, dichiara Lelio Cavalier, presidente di L'Arioreti Holding. Fra questi figurano in particolar modo gli obiettivi di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, che saranno raggiunti anche grazie alla digitalizzazione e al monitoraggio delle reti stesse. Lo ricordiamo, in media oggi un terzo dell'acqua che viene immessa nella rete va dispersa per perdite. Il finanziamento in Puno, al quale ha partecipato FI Lombarda, dichiara invece Massimo Settori, assessore regionale alla montagna e enti locali, si aggiunge ai contributi erogati negli ultimi anni da Regione Lombardia a favore dell'Ufficio d'Ambito di Lecco attraverso il Fondo Interventi per la Ripresa Economica, con il quale sono stati attribuiti al Servizio Idrico Integrato Lombardo 124 milioni di euro, 8 dei quali destinati in particolare a Lecco. A queste risorse, conclude Settori, auspichiamo possano presto aggiungersi anche quali derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per le quali l'Ufficio d'Ambito di Lecco, con il gestore Radio Letti Holding, grazie al supporto di Regione, ha richiesto in via prioritaria un contributo di un milione e mezzo di euro e per il quale si resta in attesa del decreto ministeriale che ne formalizzi l'assegnazione. Il telefono sociale è ancora più vicino a chi ha bisogno. ATS Brianza, sulla base della legge regionale, innova il servizio facendo rete con i comuni. Sulla scorta di precedenti esperienze di telefonia sociale svolte sul territorio, spiega il direttore generale di ATS Brianza, il dottor Carmelo Scarcella, abbiamo voluto mettere in campo una nuova modalità di erogazione che vede il pieno coinvolgimento dei comuni. L'obiettivo auspicato è quello di consentire una migliore conoscenza delle problematiche relative alle fasce deboli, consentendo ai servizi sociali dei comuni un'efficace presa in carico. Il progetto è stato affidato ad Hauser Lecco in associazione con Hauser Volontariato Brianza. Avrà durata di un anno e prevede il coinvolgimento e la presa in carico di almeno 1.500 persone tra Lecco e Monza, individuate proprio dagli assistenti sociali dei comuni. L'obiettivo è prevenire o ridurre l'isolamento sociale delle persone fragili, offrendo un ascolto attivo capace di comprendere i bisogni delle persone e individuare eventuali criticità. Inoltre ha un modo per orientare e informare i cittadini sulla rete dei servizi territoriali attivi. Spetterà gli ambiti ai comuni del territorio valutare gli effetti di questo sistema di intervento integrato. Il progetto prevede anche l'avvio di un'attività puntuale di monitoraggio delle azioni e dei risultati raggiunti. A cura del Dipartimento Programmazione e Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali della TS della Brianza in stretta sinergia con gli ambiti territoriali. A cura del Dipartimento Programmazione e Integrazione delle persone